terzo allenamento della settimana io l'ho fatto all'aperto però onestamente si può anche fare al chiuso con delle piccole varianti partiamo con il riscaldamento air squat skull crasher le ripetizioni le trovate sulla scheda come al solito e poi chiudiamo il warm up con delle andaturine per quanto riguarda io ho utilizzato un piccolo rialzo voi potete anche farle a corpo libero eventualmente se non avete nulla a disposizione corpo dell'allenamento che parte subito con del mountain climber come al solito potete lavorare o con tutte e due le ginocchia fluttuanti oppure potete appoggiare la gamba che viene sotto la linea del torace qui lavoriamo con il jump box come nel mio caso possiamo decidere di scendere appoggiando un piede per volta o balzando giù con due piedi ovviamente questa seconda versione è un po più impattante e permette di andare leggermente più veloce se dovesse essere troppo oppure anche se dovessi farlo in casa puoi farlo con una sedia salendo così come ti sto mostrando con lo step up e invece di fare il jump box fare un jump squat a corpo libero non saltare su una sedia ecco la versione del jump box la fai se sei fuori e se hai uno spazio adeguato sit up sempre io ho lavorato sopra la banca perché a terra aveva piovuto e ho preferito stare sopra levato se il sit up è troppo intenso passo a una condizione di crunch chiudiamo il mio lavoro con il push up oppure con il push up in appoggio sulle sulle ginocchia una volta completati questa sequenza di esercizi partiamo con una fase aerobica di due minuti di corsa se sei fuori all'aperto oppure due minuti di bar peace protocollo complessivo prevede da tre a sei round di lavoro in funzione di quello che è il tuo livello